Le macellerie del gusto propongono in questo periodo una spadellata di pollo, semplicemente del petto di pollo tagliato a bocconcini con della salamella e delle verdure che possono essere zucchine, carote, peperoni, piselli, tutte verdure di stagione. Veloce da preparare, una spadellata con del vino bianco a piacere. Volendo si può fare del riso bollito a parte, mescolarla a fine cottura insieme e viene fuori un piatto unico, colorato, adatto anche a bambini, divertente. È un piatto estivo, fresco, si può mangiare sia caldo che anche tiepido, perché col caldo il piatto lo permette. Filetto di maiale tricolore, anche questo, noi l'abbiamo fatto con della salamella e dei peperoni. Basta farlo rosolare con del vino bianco in padella o anche questo, se non si ha del vino bianco non si vuole usare del brodo. E una trentina di minuti in forno per tagliarlo a freddo. È un piatto estivo, fresco, non è pesante perché il filetto non è pesante. Lo accompagniamo volendo con un buon vino bianco che così dà un po' di gusto e sapore. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.